Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi un video chiacchierato perché l'ho rimandato per un po', dovevo farlo uscire in realtà prima, ma oggi voglio andare a vedere con voi tutti quelli che sono, secondo me e non solo, i problemi di FIFA, di quelli che sono stati gli ultimi anni, perché insomma è lampante che secondo me ormai da FIFA 18 siamo andati a peggiorare di anno in anno. Nonostante ci ripetevamo, questa versione non può essere peggiore della precedente, purtroppo è successo in maniera abbastanza inspiegabile e irrimediabile, per cui oggi andiamo a guardare assieme quello che è un thread che ha fatto Adeliman, pro player spagnolo su Twitter, tra l'altro lui attualmente è il terzo in Europa, per cui uno che diciamo quest'anno è andato alla grandissima, aveva zero ragioni per fare un post del genere, quindi ha maggior ragione, visto che viene da una fonte illustrissima, attendibile, perché magari qualcuno vede che quest'anno non si è andato benissimo allora, perciò ti lamenti. No, si lamentano fondamentalmente un po' tutti, quindi voglio fare questo video in maniera tale che poi ne andiamo a discutere nei commenti, mi raccomando, in maniera pacifica e pagata. Quindi passiamo sulla schermata, ed eccoci qua, c'è Adeliman che dice, insomma, thread esplicativo di quello che a mio modo di vedere sono tutti i problemi di FIFA al giorno d'oggi, preparatevi perché sarà un po' lunghino, calcolate che ci saranno sia problematiche per tutti, sia anche delle problematiche a livello di competizioni, che però giusto per rendere il video completo andrò a trattare all'interno di questo video. Il primo problema che Adeliman mette in evidenza è quello del pay to win, che ogni anno io ho bisogno di investire migliaia di euro per avere l'opzione di poter competere e essere uno dei migliori giocatori, credo sia abbastanza inammissibile, non va a premiare effettivamente quelli che sono i migliori giocatori, a meno che io non abbia la possibilità di pagare per poter tentare. Secondo lui, qual è la soluzione che propone? Ossia dare giocatori in prestito a quelli che sono gli account dei giocatori verificati, ossia quelli che partecipano alle qualifiche, quelli che hanno raggiunto le 27 vittorie Weekend League entro il 31 dicembre, come succede negli account della Liga, eccetera, eccetera. Una volta che stai dentro, i giocatori possono andare appunto a fare queste classifiche online che ti danno una sorta di possibilità di provare appunto giocatori in prestito con tutti i giocatori del gioco. Lo dice uno che quest'anno ha dovuto mettere più o meno 4.500 euro per poter avere una delle migliori squadre e a differenza di quello che la gente pensa, i giocatori professionisti sono i primi che insomma cercano di evitare quello che è il problema del Petwin e infatti io non potrei essere più d'accordo con quanto dice Adriman perché io ad esempio sono un po' più old school, sono emerso in un periodo in cui su FIFA non era fondamentale investire tutti questi soldi perché su FIFA 18 sono partito con 0 euro al tempo dei toti, misi 50 euro, mi disse bene trovai messi i toti ma non era un problema perché comunque ero arrivato a fare dei buoni risultati e quello era un FIFA dove il fattore Petwin secondo me è imparagonabile a quello che è successo da FIFA 19 in poi dove soprattutto il gameplay ha fatto sì che emergesse tantissimo la differenza tra quelli che sono i giocatori i giocatori forti e i giocatori invece di fascia medio-bassa o anche medio-alta rispetto a quelli che sono invece i top player per cui questo è un qualcosa che assolutamente io auspico venga risolto sicuramente non verrà zerata questa componente perché è chiaro che è quella che porta più introiti a EA però almeno che si vada a trovare una via di mezzo ok io per poter arrivare a giocare alle qualifiche magari uso il mio account però una volta che arriviamo lì è bene che tutti quanti partiamo ad armi pari perché altrimenti sarebbe come andare a fare insomma la guerra invece che con le spade con le canne di bambù voglio dire no perdonatemi la metafora e cercate di capirla quindi questo per quanto riguarda il pay to win perché poi fondamentalmente di lamentarsi che c'è gente con le squadre superiore alla nostra in linea generale magari questo può dipendere da mille fattori è stato più fortunato nei pacchetti eccetera eccetera quindi quello in linea generale è un problema che magari è meno critico rispetto a quello relativo al mondo del competitive però è chiaro che è una forte barriera per chi vuole cercare di introdurre all'interno di questo di questo settore per quanto riguarda invece il formato e le qualifiche lui dice che il formato di quest'anno non ha senso perché 1024 giocatori di tutti i posti di Europa e anche fuori dall'Europa visto che in Europa c'è anche Israele per dirvi devono andare a combattere per sei posti ed è molto più complicato non solo questo perché puoi perdere una sola partita e poi sei eliminato invece l'anno scorso i giocatori erano divisi in fase 1 e fase 2 e la gente della fase 2 aveva un formato giusto ovvero il formato svizzero dove avevi la possibilità di poter perdere due game e al termine della svizzera andavi poi nel bracket probabilmente il migliore che hanno fatto quello l'anno passato rispetto a quest'anno onestamente sono d'accordo anche su questo perché se è vero che poi le qualifiche sono magari siddate da partire dalla seconda eccetera eccetera la prima è un totale random buco nero prima anche seconda quindi magari tu potresti avere un bracket totalmente insensato le prime due qualifiche e pregiudicarti una stagione perché magari ti trovi al terzo turno tom al quarto turno ti trovi oliboli in loser bracket e ti sei giocato il torneo poi è vero che durante le successive è siddato quindi uno si ritrova gli avversari che tra virgolette merita di affrontare però tutto potrebbe essere stato anche abbastanza compromesso da quelle che erano le qualifiche precedenti il formato svizzero invece che cosa fa? ti mette contro i vincenti del turno o i perdenti quindi se io vinco becco per forza un vincente se ho perso vado a giocare con un perdente che è una cosa che fila secondo me e credo sia il formato più bilanciato che è stato mai fatto all'interno delle competizioni sicuramente la weekend league è stata una parentesi negativa del competitive quella di quest'anno una via di mezzo la swiss per me è il formato migliore parliamo del prize pool per quanto riguarda la Champions League le famose top 6 eccetera eccetera il vincitore si portava a casa 15.000 dollari per essere il campione europeo all'interno di quella che è la regione più complicata ed è sicuramente qualcosa di irrisorio dove ad esempio in Sud America il campione si porta a casa 10.000 dove l'utenza è molto inferiore e il livello è anche molto più basso quindi questo è un problema che FIFA si porta dietro da una vita il fatto del prize pool perché il prize pool paragonato ad altri giochi è veramente infimo soprattutto paragonato a quelli che possono essere ricavi di EA poi è giusto che EA non debba dare da mangiare pro player però insomma anche un prize pool un po' più grosso credo che non farebbe male a nessuno anzi contribuirebbe alla crescita dell'intero movimento passiamo a parlare del gameplay che Adriman dice per me è la cosa più importante ed è chiaramente anche la cosa che probabilmente interessa di più voi appunto il gameplay il gameplay attuale ha moltissimi problemi partendo dalla base che all'interno di uno stesso gioco tu hai diversi tipi di gameplay e il problema più grave appunto è il gameplay inconsistente quando dico inconsistente è che per me la stessa azione fatta 5 volte può avere un esito diverso ad esempio dice lo stesso tiro dalla stessa posizione con lo stesso giocatore la stessa potenza può portare a quelli che sono esiti distinti perché accade questo? perché il fattore RNG è presente ed è presente troppo perché non può influire così tanto all'interno di un esport precedentemente in giochi come FIFA 17, 18 e 19 che ti potevano piacere o meno però c'erano gameplay consistenti perché se tu facevi la stessa azione diverse volte accadeva lo stesso cosa che invece non succede a partire da FIFA 20 questo problema già esisteva però esisteva in maniera minore io dice Adriman reputo chiaro il fatto che FIFA 20 è un gioco peggiore di FIFA 21 solo per il fatto che FIFA 20 è un gioco peggiore che io abbia mai visto i principali problemi di quella che è l'inconsistenza stanno in quella che è la definizione appunto di inconsistenza di gameplay che ha menzionato in precedenza il sistema di passaggi perché il sistema di passaggi ogni anno è peggiore dell'anno precedente la cosa non tiene senso che i passaggi di FIFA 17, 18 e 19 furono i migliori rispetto a FIFA 21 non ha senso e non è possibile che un gioco di calcio abbia dei passaggi così così sbagliati rispetto appunto al vero football e questo è assolutamente vero partiamo per andiamo per gradi per quanto riguarda il fatto che il gameplay insomma sia inconsistente siamo d'accordo perché se io con R9 arrivo davanti la porta tiro e magari prendo il palo l'altro giocatore arriva nella stessa zona con lo stesso giocatore e tira segna perché? perché esiste l'RNG, il Momentum come lo vogliamo chiamare che fa sì che le azioni appunto rollino cioè non abbiano degli esiti che sono 100% o 0% ma c'è un esito che è 51-49 quindi è già questo che è sballato secondo me a riguardo per quanto riguarda i passaggi dice giustamente Atrivan è impossibile che giochi precedenti abbiano un sistema di passaggi migliore rispetto a quello di FIFA 20 e di FIFA 21 ed è assolutamente un qualcosa di di reale perché ogni anno i passaggi risultano sempre più marci fateci caso ma voi su FIFA 18 vi è mai capitato che la palla vi passasse dietro alle spalle al giocatore quando c'era di lei? no su FIFA 17 vi è mai capitato? no su FIFA 19 iniziava già a capitare un po' di più ma le dinamiche e le meccaniche che si sono state inserite a partire da FIFA 20 e ovviamente in FIFA 21 per me non hanno veramente il minimo senso cioè avrebbero potuto tranquillamente mantenere il sistema di passaggi di quei giochi precedenti e ottenere dei risultati migliori secondo me dice Adriman e questo si vede nel fatto che alcuni passaggi con la X vanno al piede altri vanno avanti altri attraversano la stessa cosa si vede con triangolo altri se carichi la barra intera vanno al giocatore che sta praticamente al tuo fianco invece di andare in profondità che è quello che vi ho appena detto perché i passaggi vanno esattamente ad agganciare alle volte il ricevitore è errato e la cosa non ha senso perché se io carico col triangolo in auto la barra al massimo ma tu pure se me lo fai sbagliare il passaggio ma tu la devi sparare in congolesia non me la puoi passare al giocatore a fianco e far succedere delle cose ambigue è proprio il sistema di tracking che è errato poi questo su questo ci arriviamo in seconda battuta perché io poi ho anche un'altra osservazione da fare sul gameplay sistema di centros dice dice adriman che onestamente non so cosa intenda per centros però dice che nei FIFA precedenti i centros erano normali vedete che un giocatore smarcato in aria con la potenza adeguata aspettate che cos'è centros ah il sistema dei cross perfetto nei precedenti FIFA i cross normali vedete che un giocatore smarcato in aria crossavi con la giusta potenza se crossavi male non finiva se crossavi bene segnavi quasi a piacimento perfetto invece adesso che cosa succede che adesso come menziona in precedente per i passaggi col fatto che i colpi di testa sono manuali che è un qualcosa che già sarebbe dovuto esistere in un videogioco per me è la peggiore meccanica che è stata implementata perché non tiene senso in effetti è vero perché o rendi tutto manuale o perché rendere i colpi di testa manuale e rendere il colpo di testa una meccanica impossibile quindi se io praticamente o l'uomo libero al centro dell'aria non gli posso crossare il pallone o rendi tutto manuale o perché andare a penalizzare una meccanica come quella del cross e del colpo di testa anche questa è insomma un grossissimo punto di domanda è probabilmente da FIFA 19 che non si può fare più un cross anche se ricorderemo i cross di FIFA 19 che erano delle agrobazie funamboliche il sistema della difesa precedentemente potevi pressare con il tasto R1 e un giocatore della CPU andava a pressare il portatore di palla e tu potevi andare con un altro giocatore invece a cortare a tagliare la linea del passaggio e questo rendeva dunque possibile una pressione complicata da superare per il tuo per il tuo avversario questo però è sparito assolutamente senza andare a premiare quella che è la pressione dell'avversario invece di complicarlo si va a premiare quello che ripiega il non commettere falli e questo va dunque ad abbassare lo skill gap di un esport ed è un grave errore e io vado anche ad aggiungere il fatto che è stato palesemente reso imbarazzante il pressing automatico perché da FIFA 19 con l'introduzione delle tattiche sono emerse un sacco di dinamiche automatiche che non hanno senso perché in passato in particolare su FIFA 18 tu saprei pressare in maniera manuale pressavi se non saprei pressare semplicemente non lo potevi fare perché dovevi selezionare i giocatori non potevi attivare una tattica che ti permetteva dunque di arrivare addosso ai giocatori in automatico come succede ora e quest'anno penso che sia il gioco dove si vede di più è totalmente sbroccato il sistema di pressing e si va ad abbassare giustamente lo skill gap come dice Adriman continuo a dire Adriman poi i contrasti non sono consistenti posso fare un contrasto uguale tre volte e il pallone cade in tre posti differenti questo dunque fa sì che aumenti il fattore di RNG e i rimpalli che non devono influire tanto sul gioco invece vanno a influire veramente tanto in precedenza dice che si premiava lo switch manuale invece adesso basta correre con l'attaccante all'indietro per far sì che la tua linea dei centrocampisti rimanga in perfetta linea e vada a difendere come succede ora in maniera automatica sistema sistema di regates anche in questo caso Adriman aiutami a capire regates cos'è il dribbling perfetto la varietà di skill ogni anno è sempre minore ci sono anni in cui puoi fare insomma le skill adeguate il momento adeguato e invece perché ciascuna skill richiede il suo momento invece ora ci sono 4-5 skill che funzionano e il resto praticamente sono inservibili ed è verissimo perché ho fatto l'elastico ho fatto il reverse elastico ho fatto il tunnel direzionale ho fatto il bridge probabilmente il tacco-tacco la crocchetta cancellata dopodiché basta la veronica l'abbiamo persa abbiamo perso il doppio passo che l'hanno nerfato abbiamo perso non so la bicicletta che l'hanno massacrata ogni anno succede il drag back l'hanno distrutto questo che cosa succede questo arriva al punto tale che la migliore skill è l1-r1 perché la maggiore volta la maggior la maggior parte dei casi cosa succede è che l'attaccante va praticamente a paralizzare il difensore e questa è una cosa aberrante in mia opinione la saga sta andando in un posto che non è buono e non premia l'abilità e l'essere intelligente del giocatore credo che lì debba ascoltare tantissimo i giocatori professionali che alla fine sono le persone che giocano di più al gioco e effettivamente è così nella mia opinione FIFA 20 e 21 sono i peggiori della saga ovviamente con tanta differenza tra tra di loro e spero che FIFA 21 possa andare a premiare FIFA un giorno possa andare a premiare l'abilità e non solo la meccanica che non richiedono di pensare o analizzare il gioco quindi praticamente Hadriman ha fatto tutta una bella una bella analisi secondo me di questo di questo momento di FIFA degli ultimi anni e io mi sento di essere totalmente d'accordo con quello che ha detto lui perché secondo me stiamo andando come dice lui in un posto un po' ambiguo in una direzione sbagliata in più tutto questo io credo sia immensa colpa del motore grafico motore grafico che è lo stesso motore grafico ad esempio di Battlefield motivo per il quale se io ho un giocatore che perde il rimpallo non posso switchare perché mi tracca un unico uomo come se io ti stessi mirando quindi credo sia sbagliato credo che su next gen quando avremo un gioco designato totalmente su next gen perderemo questo motore grafico e sarà un anno zero perché andranno a cambiare tante tante cose secondo me su FIFA una volta che vedremo questa questa modifica quindi mi auguro che accada che accada presto però mi auguro che insomma FIFA per una volta riesca a portare un prodotto che non solo soddisfi chi ci compete ma soprattutto soddisfi anche il giocatore casual il giocatore che più alla fine va a giocare al gioco per divertirsi perché non è possibile che nel momento in cui io devo accendo per fare una partita e rilassarmi devo essere invece sottoposto a tutte queste dinamiche che non fanno altro che peggiorare la mia esperienza per cui raga fatemi sapere voi che ne pensate nei commenti spero che vi sia interessato questo video perché secondo me è un thread vi ripeto molto interessante ho fatto passare un mese perché tra una cosa o un'altra non l'ho mai registrato però finalmente ve l'ho portato in descrizione come al solito trovate tutte le info per le live giornali sulla piattaforma viola che comunque ridurrò un po' credo che stimmerò dal giovedì alla domenica visto che FIFA ormai offre sempre meno e ho gli ultimi due esami da dare prima della laurea quindi mi capirete se magari ridurrò ridurrò anche un po' salutone dal vostro Riberoski statemi bene ciao ciao